Però questo è un progetto italiano che non si muove Io non ho un progetto, non è un progetto, non è un progetto Quindi... Naccio ne è anche un progetto, quindi Assolutamente, va bene Allora, va bene, va bene Allora, va bene, va bene Però gli italiani adorando c'è un progetto Sì E' un progetto E' un peccato E' un progetto E' un progetto Per me, comunque E' un progetto Per me Per me Vabbè, lo stiamo Per quiclop aricolati Per me Per me Quindi Inizio Sì, guarda, guarda che io conosco, guarda come me. Sì, va bene, se io provo a tutti i paesi, se io provo a tutti i paesi, ma almeno che un po' è tutto un agendino. Ho scavato 20 agendini. No, 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 perché no? No, 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 perché no?